Sarà ancora Anna Maria Celesti, vice sindaco del comune di Pistoia e presidente uscente a guidare la società della salute pistoiese. Celesti ha ottenuto un mandato all'unanimità dai rappresentanti dei nove comuni che compongono il consorzio Pistoia, Quarrata, Montale, Aliana, Serravalle, Pistoiese, San Marcello, Piteglio, Abitone, Cutigliano, Marliana e Sambuca, Pistoiese. La presidente ha designato come vice presidente il vice sindaco del comune di San Marcello, Piteglio, Roberto Rimediotti. Chiederò alla direzione dell'azienda sanitaria un incontro da tenersi entro la prima settimana di settembre per affrontare subito tutte le questioni sul tappeto e le varie criticità relative ai nostri ospedali e alla situazione sociosanitaria e socioassistenziale del nostro territorio, ha detto Celesti subito dopo la sua conferma alla presidenza della SDS. All'incontro con l'azienda, ha aggiunto, saranno invitati gli ordini professionali interessati, le categorie sindacali ed economiche, il mondo delle associazioni del volontariato, del terzo settore e dei cittadini.